Movente passionale, movente economico, una doppia vita, tanti punti di domanda. Si infittisce il giallo sul decesso di Bledardedia, il giardiniere tuttofare trovato morto domenica mattina nei boschi di Paderno di Pieve del Grappa. Lunedì i tecnici del RIS di Parma andranno a scandagliare tutta l'area dove si è consumato il massacro del 39enne, padre di una bambina di 10 anni e un bimbo di 2, colpito con oltre 20 coltellate. Dopo che i militari hanno fatto una prima perlustrazione con il metal detector per rinvenire l'arma usata per l'assassinio, gli uomini del reparto investigazioni scientifiche controlleranno non solo il luogo del delitto ma si concentreranno anche sulla Mercedes di Dedia sotto sequestro all'interno della quale sono stati trovati alcuni effetti personali della vittima compreso il telefono cellulare che il o i killer hanno lasciato sul posto. Gli inquirenti infatti non tralasciano alcuna pista, compresa quella che ha da agire, se non state più persone. Intanto nella casa di Casella d'Asolo, dove il 39enne viveva con la famiglia, c'è solo dolore. Il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, ha voluto esprimere la sua completa vicinanza alla moglie e ai figli di Bledardedia. Come cittadinanza, come amministrazione, ci siamo già messi a disposizione della famiglia per qualsiasi tipo di necessità possa avere, in particolare nei confronti di due minori. Penso che da parte di tutti noi ci sia tutta la volontà di essere vicini a loro in questo momento tragico, in questo evento che è inspiegabile, che sta facendo riflettere tutti noi. Un evento inspiegabile. Saranno l'autopsia e le indagini dei carabinieri del RIS a chiarire cosa possa essere accaduto tra sabato e domenica scorsi e a trovare le tracce per incastrare chi ha ucciso Bledardedia.